Un detergente chimico di stampo bellico, barra biblico, corri a prenderlo da oggi nella nuova imbattibile formula, più fosforo e meno scrupoli USA al plan della nuova svolta, l'Europa in trans col gas di scorta Le Nazioni Unite sono al momento, senti se dovete lanciare un appello dite tutti ad assisi dopo il segnale acustico Guardate Cristo com'è capace di stare in croce col cuore in pace prendete esempio, fate tesoro, il vero spallo comincia dopo un falso incontro alla conversione, le braccia aperte all'occupazione qualche chiodo e vi assicuro l'avvenire lungo il muro E adesso li vedete tutti con me, la chiave per il paradiso è Io e il tuo plasma, me lo vertebre 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 Ma che, ma che, ma che vangelo è? Se fosse nato a casa, chissà cosa ne direbbe A Beethoven e Sinatra preferisco l'intifada Attivarti la sommossa, che mi dà più dignità Ma che, ma che, ma che vangelo è? Se fosse nato a casa, chissà cosa ne direbbe Ma che, ma che, ma che, ma che vangelo è? Se fosse nato a casa, chissà cosa ne direbbe Ma che, ma che, ma che vangelo è?